Ok, rifacciamo la puntata all'ultimo incontro di Blender in cui abbiamo visto come fare una texturizzazione con UVMap tutto il workflow relativo di un oggetto che non fosse proprio banale e quindi siamo partiti dal famoso lampione per fare il lampione in Object Mode che è l'inizio cancellando eventualmente il cubo iniziale facciamo Shift A quindi clicchiamo e facciamo Shift A e introduciamo una Mesh di tipo Circle ci accertiamo di mettere con il numero di vertice A6 quindi viene questa figura andiamo con Tab andiamo in Edit Mode e facciamo delle estrusioni lungo l'asse Z e poi scaliamo estrudiamo scaliamo estrudiamo, scalo a 0 e poi facciamo Alt questo col tasto destro del mouse e poi estrudiamo a scala a 0 e così abbiamo questa specie di lampione eventualmente se facciamo la foto vediamo che è un po' grossino quindi in Object Mode scaliamo tutto l'oggetto un po' più piccolo F12 eccolo lì ok, allora adesso quello che vogliamo fare è di fare l'UVMap quindi il primo pezzo è di fare l'UVMap di questo oggetto quindi per fare l'UVMap dobbiamo obbligatoriamente avere la finestra UV Image Editor questa finestra si ottiene andando a trascinare l'angolino in alto a destra e poi qui invece nella parte opposta vediamo che c'è UV Image Editor e qui la nostra cosa adesso qui è venuta perché abbiamo fatto l'F12 ma se no ci facciamo anzi ci conviene andare quando facciamo UVMap o Unwrap conviene essere in Edit Mode ok quindi è obbligatorio essere in Edit Mode Edit Mode e cerco di selezionare un po' tutto e facciamo l'Unwrap quindi cerchiamo di spezzettare di pelare come ho detto in lezione sbucciare questa specie di frutto e lo facciamo su una nuova immagine che inizialmente è vuota 1024x1024 togliamo l'alpha e quindi ecco questo è il modo in cui lui si sbuccia da solo cioè praticamente ogni faccia è tagliata singolarmente e riapplicata rincollata qua sopra ma noi vogliamo texturizzarlo in modo tale da controllare bene cosa far vedere sopra cosa far vedere sotto e cosa far vedere sui lati ora qua ci sono degli automatismi che si ottengono andando cliccando qua e poi facendo U si vede anche sulla sinistra che ci sono delle opzioni adesso questa è la versione nuova che ce l'ha tutta fatta a linguetta da voi è tutto attaccato ok quindi qui abbiamo le cose che ci interessano sono questo UV mapping dove c'è l'unwrap e marcosim adesso arriveremo subito al significato allora se noi facciamo U di unwrap quindi selezionato qua facciamo U e facciamo l'unwrap automatico vedete che l'unwrap automatico viene questa ragnatela che è sbagliata perché l'ideale sarebbe che raccogliesse tutto che si snodasse su tutto questo quadratino nero quadrato e soprattutto che non ci siano delle sovrapposizioni o delle cose del genere e quindi questo unwrap di default non va bene si può tentare di far vederne un altro di quelli avanti per vedere se funziona quindi lo smart UV project ok fa qualcosina cioè che potrebbe anche andare in certe condizioni nel senso che ci prende il sopra il sotto e poi ci prende le singole facce ma noi le singole facce le vogliamo vedere tutte attaccate tutte insieme in realtà e quindi come facciamo per fare questa cosa allora cominciamo a vedere un po' i concetti di base che sono quelli del taglio quindi per tagliare allora di solito si fa così si deseleziona tutto si va si seleziona la modalità edge cioè lati e poi col tasto destro si fa tasto destro e poi shift così no, quello è sbagliato o se no semplicemente in questo caso visto che è un edge loop si fa alt shift alt tasto destro e si seleziona tutto il loop e poi si marca il sim cioè il taglio quindi noi abbiamo segnato quel taglio e poi facciamo la stessa cosa qua sotto quindi alt tasto destro del mouse e poi mark sim in questo modo praticamente dovrebbe vedersi dovremmo aver ritagliato la parte di sopra e la parte di sotto e poi tutto il resto no quindi vediamo selezioniamo tutto facciamo u unwrap e vediamo che in realtà questa è la stessa da parte di sopra questa è la parte di sotto e questo e tutto il resto che non va molto bene come unwrap no i tagli canonici di questo genere di oggetti dovrebbero essere di selezionare ancora questo e questo con shift in modo tale che dovrebbe aprirsi tipo a cilindro no ma abbiamo visto anche la lezione che facendo in questo modo dunque la superficie cilindrica laterale effettivamente esce ma le altre parti sono fatte male e quindi allora ci conviene l'unica soluzione che ci rimane da fare è quella di fare un unwrap un po' a mano quindi per fare un unwrap a mano cosa facciamo allora vogliamo tagliare proprio questo oggetto di sopra benissimo allora lo guardiamo l'oggetto con 7 lo guardiamo da sopra togliamo qua la visione prospettica e vogliamo fare l'unwrap soltanto della parte di sopra allora selezioniamo le facce di sopra e quindi selezioniamo questo per selezionare questo giro di facce si può selezionare con shift tutte le facce oppure anche si potrebbe fare alt e poi qua vedete che seleziona tutte le facce che sono perpendicolari ok vedete che questo è il mio bellissimo a parte di sopra questo è come lui l'aveva unwrappato prima che non va bene facciamo unwrap e usiamo project from view che è molto interessante perché project from view vedete che fa unwrap rispettando la forma con cui sto osservando l'oggetto a questo punto vado a destra mentre sono lì sopra faccio L seleziono questa prima parte e la metto la sposto con G fino in fondo in un posto poi devo andare dall'altra parte e selezionare la parte di sotto e questo lo faccio con control set del tastrino numerico ok poi seleziono di nuovo le facce con il motodo usuale quindi avendo selezionato le facce faccio alt e premo qua anche qui vedete che era brutto facciamo U project from view e ottengo un nuovo esagonino L seleziono l'area G e me lo metto qua ok quindi a questo punto abbiamo fatto praticamente l'unwrap della parte di sopra e della parte di sotto adesso quello che ci rimane da fare è di fare adesso facciamo un piccolo trucco facciamo shift alt e selezioniamo anche la faccia di sopra e poi facciamo control i per selezionare diciamo l'involucro attorno ecco vedete che era stato frappato benino ma io lo voglio fare tutto rettangolare e per farlo si può fare l'unwrap che viene chiamato cilindrico questo somiglia a grandi linee a un cilindro quindi faccio cylinder projection vedete che viene abbastanza bellino ma la cosa migliore sarebbe di dirgli align to object in modo tale che vedete che viene tutto bello allineato andiamo a destra l selezioniamo tra l'altro non posso fare clip to bound no scale to bound che meglio scale to bound ah vedete scale to bound me l'ha proprio allineato esattamente sul mio sul mio quadrato però così non va bene perché deve essere indipendente se faccio a vedete che si sovrappone alla parte di sopra la parte di sotto quindi vado qua faccio l lo seleziono e facciamo sx per restringerlo gx per spostarlo sx lo allunghiamo un pochino ok in questo modo abbiamo le tre parti della nostra immagine ok allora a questo punto perché abbiamo fatto tutto ciò perché noi vogliamo colorare tutte queste parti qua con un colore un colore o mettergli una texture insomma fare la stessa cosa sulla parte di sopra e la parte di sotto e per gestire le immagini il modo migliore è di esportare questa figura che è l'unvrap in un programma grafico tipo gimp o photoshop o come vedrete userò paint net e poi metterci usare queste come delle griglie oppure ancora meglio come un layer che poi magari vado a togliere che mi fa vedere dove mettere le varie cose quindi faccio image salviamo questa immagine ce la mettiamo in un posto noto mettiamo praticamente unwrap 2 febbraio per ritrovarmelo quindi lui ha salvato questa cosa qua e poi lanciamo paint net paint net è un programmino che mi consente di facciamo apriamo c punti vediamo l'ultima cosa che mi ho messo ecco un wrap del 2 febbraio e avevo sbagliato quindi non bisogna fare il save dell'immagine bisogna fare l'export uv layout e questo lo facciamo e questo lo facciamo sempre in qua facciamo uv un wrap 2 febbraio ok e torniamo in paint qua facciamo ecco vedete ad questo punto è giusto e poi uso il secchiello questo è solo uno dei tanti modi di texturizzare vado a prendermi dei colori diciamo che ad esempio la parte di sopra la voglio fare in verde scuro questo scusate verde scuro questo la parte di sotto la facciamo in questo colore qua marroncino scuro e poi facciamo magari in giallo la lanterna non è proprio giallo questo la parte della lanterna di sopra e in arancione la parte di sotto ok e poi facciamo un salvataggio di questo questa cosa che abbiamo fatto e semplicemente da da blender vado a riprendermi questa immagine quindi faccio una reload dell'immagine neanche perché non l'avevo salvata quindi devo aprirla quindi faccio open image unwrap 2 febbraio che è quella che ho salvato poco fa e vedete che è quella con i colori ora a questo punto avevo detto durante il corso come fare per vedere questi colori addosso all'oggetto cioè vestirli vedete che qui non si vede ma se noi abbiamo cura di andare in sarebbe shading che però eccolo qua shading andiamo in GLSL e poi texture di solid e vedete che l'oggetto è effettivamente a quei colori che gli abbiamo messo quindi arancio giallo verde e marrone scuro però il modo se io faccio la foto dell'oggetto non è non ha i colori giusti quindi bisogna ancora fare dei mestieri perché se non si vede con l'F12 difficilmente si vedrà poi in second life o in open scene quindi andiamo in qui quindi avendo selezionato l'oggetto andiamo a selezionargli la sua materiale gli aggiungiamo un materiale del lampione e poi già fatto ho solo fatto new e poi vado sulle texture e gli aggiungo una texture che è di tipo image or movie gli metto proprio la texture la seleziono qua in image e poi soprattutto mi devo ricordare di dirgli che è una UV e la mappatura è la UV map facendo in questo modo F12 vedete che il mio lampione risulta quello voluto qui se volessi vederlo un pochino meglio basta che vada in object mode seleziono la luce e magari la luce me la metto Hemi che dà una luce leggermente più bella questo solo per le fotografie in blend vedete facendo F12 si vede il lampione un pochino meglio messo ok eccoci completiamo il tutto esportando quindi a questo punto abbiamo il nostro il nostro oggetto lampione dobbiamo esportarlo verso Second Life OpenSim come si fa? basta andare in object mode lo selezioniamo facciamo attenzione ad aver selezionato solo lui poi facciamo file export e usiamo export con l'ADA io ne ho due perché ci ho impostato avastar ma voi avrete uno solo con l'ADA default facendo in questo modo fate attenzione a selezionare nell'export con l'ADA i preset OSL OpenSim Static si userà invece Rigged per fare gli abiti o gli avatar che vi insegnerò la volta prossima ma per adesso passiamo usiamo delle cose statiche quindi facciamo questo sistema perfetto in questo modo selezionerà automaticamente tutto quanto è necessario per esportare il nostro amico quindi facciamo include eventualmente anche le texture dei materiali questo dovrebbe già esportare anche le texture e lo esportiamo sotto C magari andiamo sotto Blender e qui esportiamo il nostro lampione del oggi è diventato il 4 febbraio punto da ok e poi andiamo a vedere che cosa ci ha salvato curiosità perché a volte fa delle piccole meraviglie quindi andiamo per data ok e vedete che di oggi niente quindi ha salvato soltanto appunto il lampione del 4 febbraio ecco una cosa che è importante è che deve salvare anche la nostra UVMAP cioè la nostra immagine quindi noi abbiamo cura di salvare nello stesso posto in cui salviamo il punto TAE anche la nostra immagine quindi questa immagine che in questo momento non è nominata ad esempio quindi questa questa qua facciamo salva immagine save as image e ce la salviamo sotto blender qua ok è un wrap 2 febbraio ok a questo punto se l'immagine è salvata nello stesso posto in cui è salvato il punto DAE quando facciamo l'upload dovrebbe funzionare quindi andiamo nel nostro mondo virtuale in questo caso è OS Grid comunque OpenSim è analogo e qua facciamo carica sul server modello andiamo sotto C2 punti blender dove abbiamo salvato e abbiamo finalmente il nostro lampione 4 febbraio lo tiriamo su ah qui non si può sembra fare il però osservate che comunque ci proviamo lo stesso osservate che si illumina texture questo vuol dire che in realtà lui ha trovato la texture l'ha trovata in quanto la texture è stata salvata con lo stesso nome con cui è stata creata dentro il folder in cui c'è il punto da questo qui lo chiamiamo lampione 4 febbraio ancora e tentiamo di vedere ecco non solo una cosa qui le texture si specificano ma devono essere rispecificate anche qua altrimenti qui serve solo per vederle in preview e qua include texture serve per poterlo effettivamente usare quindi proviamo a vedere se funziona nonostante l'errorino che ci ho dato prima facciamo il carica ok lampione 4 febbraio sembra a posto quindi proviamo a rezzarlo ed è stato rezzato perfettamente o se per caso non ve lo scaricasse e quindi venisse bianco quindi magari proviamo a rifare l'upload senza senza texture quindi prendiamo in nuovo questo ok lo carichiamo senza texture quindi prendiamo lampione senza texture quindi o perché avete deciso di non caricare le texture o perché non ci riuscite facciamo calcola pesi tariffe carichiamo il lampione senza texture che ovviamente a questo punto risulta bianco allora bisogna caricare la texture separatamente quindi immagine e abbiamo prendiamo prendiamo questa export uvpng eccola qua la carichiamo quindi vedete faccia un passo in più molti preferiscono fare questo doppio passo e poi da qua lo scarichiamo e lo portiamo sul nostro oggetto e qui abbiamo un piccolo difetto perché la texture era era trasparente quindi forse conveniva in realtà un altro metodo se riusciamo oppure se si è certa che la texture non sia trasparente eventualmente vediamo un po' qua qual è la texture che ha ecco qui ah vedi che qui c'è la miscelazione dell'alfa proviamo a vedere qua ah diciamo che non c'è alfa ah però era ah no perché probabilmente quella immagine lì non era quella giusta era fatta per un altro scopo però da qui vedete che grazie a Firestone possiamo determinare se la texture deve essere usata insieme all'alfa oppure no adesso questa è la testa sbagliata infatti vedete che era un'altra texture quindi ho sbagliato a prenderla però se viene mescolata con un alfa sbagliato si rischia di avere diciamo un effetto un effetto sbagliato quindi conviene a volte disabilitare l'alfa allora e con questo io ho concluso diciamo il ripilogo della lezione adesso cercherò di fare prima di venerdì o magari subito dopo anche un altro pezzettino per farvi vedere come il lampione può essere texturizzato con più di un unwrap cioè con unwrap diversi allora per questo è tutto ci sentiamo salve grazie a tutti